Ho accettato molto volentieri, come ogni volta quando vengo invitato in questa università, ma questa volta in modo particolare perché il tema che mi è stato proposto, cioè di parlare della metafisica classica, mi consente anche di parlare un pochino di me stesso, del mio pensiero, cosa che sarebbe auspicabile non avvenisse troppo spesso, ma avendo io ormai 79 anni, credo che qualche volta ormai me lo posso permettere. Però prima di parlarvi di me, vi darò qualche notiziola, qualche informazione, che interessa anche la storia di questa università, e che forse non tutti conoscono, e cioè l'origine dell'espressione metafisica classica. Oggi questa sessione è dedicata appunto alla metafisica classica. Allora, da piccole ricerche che ho fatto, ho potuto riscontrare che nel 1935, cioè quasi 80 anni fa, anno in cui sono nato tra l'altro, la Società Filosofica Italiana organizzò un congresso nazionale sul realismo, a cui parteciparono i professori di filosofia dell'Università Cattolica, e tutti unanimemente difesero il realismo contro l'idealismo che a quel tempo era impersonato soprattutto da Giovanni Gentile, un po' meno da Benedetto Croce, ma l'interlocutore principale era Giovanni Gentile. E nell'intervento di Gustavo Bontadini, intitolato appunto Realismo e Idealismo, compare per la prima volta l'espressione metafisica classica. Credo vi posso leggere le parole in cui questa espressione compare nell'intervento di Bontadini. Egli scrive, tutti coloro che si sforzano di uscire dai limiti dell'idealismo, non hanno altra via di orientamento all'infuori di quella rappresentata dall'ideale della metafisica classica. Credo che sia la prima volta in cui l'espressione compare in una pubblicazione a stampa. L'intervento di Bontadini, come quelli degli altri professori della Cattolica, furono infatti pubblicati in un volume supplemento della rivista di filosofia neoscolastica. Tra coloro che intervennero al convegno c'era anche colui che sarebbe stato in seguito il mio maestro nell'università di Padova, cioè Marino Gentile, il quale a quel tempo era libero docente e aveva depositato il titolo di libero docente presso l'università cattolica. Si usava così una volta in Italia. Il libero docente non apparteneva a una università, però poteva tenere corsi liberi della disciplina di cui era libero docente una volta depositato il titolo presso una università. E Marino Gentile tenne qui alcuni corsi di filosofia antica negli anni 34-35, 35-36, 36-37. E nel corso del 1934-35, che aveva per tema commento storico-teoretico della metafisica di Aristotele, corso che non è mai stato pubblicato, ma di cui Marino Gentile mi ha lasciato personalmente un quaderno con i suoi appunti manoscritti, che credo non esista, di cui non esista copia al mondo, quindi è un documento prezioso, scritto da lui, ci sono gli appunti che egli aveva preparato per le sue lezioni nel corso 34-35, e nel punto in cui, nel dodicesimo libro della metafisica, Aristotele dimostra che, per spiegare il movimento eterno del cielo, è necessario ammettere un motore, un motore che non sia semplicemente immobile come già erano le idee di Platone, ma che abbia anche un principio capace di muovere, capace di produrre mutamento, e che questo debba essere sempre in atto, totalmente in atto. A proposito di questa frase, di questo passo di Aristotele, Marino Gentile, postilla a mano, è la nascita della metafisica classica. L'appunto viene scritto prima di tenere il corso, la prima lezione del corso sarà il 3 novembre del 1934, quindi è verosimile che gli appunti siano stati preparati prima che il corso avesse inizio, e questa forse allora è una prima apparizione dell'espressione metafisica classica che precede anche quella a stampa contenuta nell'intervento di Gustavo Bontadini. Perché ricordo queste cose? Perché la mia idea di metafisica classica, quella che adesso cercherò di esporre brevemente, si è formata proprio alla scuola di questi due grandi maestri. Marino Gentile per me direttamente nell'Università di Padova, ma anche Gustavo Bontadini attraverso la lettura dei suoi scritti e attraverso numerosi incontri in cui l'ho potuto ascoltare qui o nei convegni di Gallarate. A quell'epoca i fautori della metafisica classica sostenevano che la metafisica classica era sì la metafisica che altri chiamavano aristotelico-tomistica, per esempio Olgiati o altri usavano questa espressione, ma doveva essere essenzializzata e storicizzata. Essenzializzata significa liberata da incrostazioni storiche non essenziali e storicizzata doveva dire formulata tenendo conto dei nuovi problemi e delle nuove esigenze espresse dal pensiero moderno e contemporaneo. Questa opera di essenzializzazione e di storicizzazione della metafisica classica come tutti sanno fu attuata da Bontadini in maniera molto radicale con la sua famosa argomentazione che si richiamava al principio di Parmeni dell'essere non può non essere il divenire diceva Bontadini inizialmente se assolutizzato è contraddittorio dunque non può essere assolutizzato dunque deve essere prodotto da un principio immobile non diveniente e questo era il teorema di creazione io fui affascinato dalla formulazione bontadiniana della metafisica classica ma poi in seguito ebbi delle perplessità dei dubbi quando in quella che secondo me è l'ultima fase del pensiero di Bontadini egli operò una ulteriore essenzializzazione riducendosi a dire non più che il divenire è contraddittorio se assolutizzato ma che il divenire è contraddittorio di per se stesso questa a me sembrò una eccessiva essenzializzazione e mi spinse piuttosto ad aderire ad un'altra forma di essenzializzazione della metafisica classica quella che nel frattempo era stata operata appunto da Marino Gentile che cosa diceva Marino Gentile non diceva che il divenire se assolutizzato è contraddittorio ma che il divenire anzi l'esperienza nella sua totalità di cui il divenire è uno degli aspetti principali è problematica che cosa significa problematica che non si spiega da sé che non ha in sé la propria ragione il proprio fondamento la propria spiegazione e dunque richiede altro richiede un principio diverso un principio trascendente perché Gentile era arrivato a questa formulazione in quegli anni imperversava in Italia il cosiddetto problematicismo di Ugo Spirito il quale essendo stato idealista e attualista come allievo di Giovanni Gentile aveva poi trasformato l'attualismo di Giovanni Gentile nel problematicismo in cui in sostanza sosteneva che l'atto cioè la totalità del reale l'intero è problema a questo Marino Gentile obiettava secondo me giustamente che un problema che costituisca l'intero l'intera realtà non è più un problema è già la soluzione un problema è autenticamente tale è problema solo se non coincide con la soluzione ma è domanda di una soluzione richiesta esigenza di una soluzione che sia diversa dal problema stesso che trascenda il problema stesso ora tutto sommato il discorso non era molto diverso da quello di Bontadini perché dire che il mondo dell'esperienza è un problema è appunto uguale a dire che se fosse assolutizzato cioè se fosse l'assoluto sarebbe contraddittorio però secondo me la formulazione di Marino Gentile aveva qualche vantaggio rispetto a quella di Bontadini e i vantaggi erano i seguenti che assumendo come punto di partenza come base l'esperienza nella sua totalità includeva non soltanto l'oggetto di cui si ha esperienza ma anche il soggetto che ha esperienza o che fa esperienza e quindi è anche l'atto stesso dell'esperire per cui nella esperienza c'è tutto c'è l'oggetto c'è il soggetto c'è l'atto dell'esperire e se poi la intendiamo in un senso veramente globale possiamo includervi non soltanto il livello della conoscenza sensibile ma anche qualsiasi altra conoscenza di tipo scientifico di tipo storico tutto ciò di cui l'uomo o l'umanità fa esperienza tutto questo insieme tutto questo complesso diceva Marino Gentile è un problema è problematico non si spiega da sé qual è il vantaggio di questa posizione che includendo oggetto soggetto e l'atto stesso dell'esperire e del conoscere in qualche modo fa coincidere la stessa filosofia con l'esperienza per cui l'esperienza è un problema perché la filosofia stessa è problema cioè è domanda è ricerca del perché è come dicevano appunto i classici cioè Platone e Aristotele è meraviglia e qui il il domandare proprio della filosofia viene a coincidere con il domandare che è intrinseco alla stessa esperienza nell'atto in cui la filosofia domanda ricerca un principio ricerca una spiegazione non fa che esprimere la domanda che è contenuta e che è costituita nella nella stessa esperienza questo ha il vantaggio che fa di questa posizione una posizione praticamente innegabile come in qualche misura lo è il dubbio il dubbio cartesiano avete presente quando Descartes dubita dice che di tutto si deve dubitare ma l'unica cosa di cui non si può dubitare è il dubbio stesso perché dubitando del dubbio lo si esercita lo si ripropone lo si riproduce la stessa cosa si può dire dell'esperienza intesa come problematicità questo era il termine che usava Marino Gentile pura problematicità io non posso negare la problematicità dell'esperienza non posso metterla in discussione metterla in questione perché nel momento stesso in cui la metto in discussione esercito una forma di problematicità e quindi non faccio che riprodurre che riproporre la problematicità stessa e quindi per questi motivi a me sembrava più convincente più solida il tentativo di essenzializzare la metafisica classica cioè sostanzialmente platonico-aristotelica più aristotelica che platonica a cui si richiamavano questi maestri in un modo che poteva resistere alle obiezioni del pensiero contemporaneo e del pensiero moderno perché devo dire la polemica anti-metafisica del pensiero moderno prima con Kant e del pensiero contemporaneo poi con il neopositivismo con Heidegger con tutte le posizioni che conosciamo aveva di mira una metafisica fortemente articolata sistemata sviluppata nei minimi dettagli c'è qui il collega Curtin che ha con opere magistrali ha descritto questo processo di sistematizzazione della metafisica attraverso Suarez attraverso la cosiddetta Schulmetaphysique della scolastica tedesca moderna dei secoli XVII e XVIII è quella metafisica che comprendeva una parte generale detta ontologia e poi delle metafisiche speciali che erano la teologia razionale la cosmologia razionale la psicologia razionale era la metafisica criticata da Kant insegnata ma poi anche criticata da Emanuele Kant ora a me pare che i tentativi di essenzializzazione attuati da Bontadini in un modo e da Gentile nell'altro ci liberassero da questo edificio così complicato e così difficile da difendere edificio che io ho avuto modo poi anche di conoscere e di apprezzare attraverso gli elementi di filosofia di Sofia Vanni Rovighi altra grande figura di filosofa che si richiamava la metafisica classica e che insegnava appunto in questa università gli elementi di filosofia erano anche quelli un modo per essenzializzare e storicizzare la metafisica classica ma erano un modo come dire molto più prudente molto più contenuto che manteneva nelle grandi linee l'articolazione tradizionale in ontologia teologia cosmologia e psicologia utilissimi da apprendere come istituzioni di filosofia infatti poi una delle edizioni del manuale prese il titolo degli elementi prese il titolo di istituzioni ecco a me sembrava che le proposte di un bontadini o di un gentile invece fossero molto più attuali molto più facili da difendere contro le obiezioni del pensiero moderno e contemporaneo devo dire tuttavia che il Marino Gentile negli scritti nelle opere in cui propone questa sua posizione della metafisica problematicità come problematicità la considera la considerava una introduzione alla metafisica dopo la quale egli rinviava c'è un passo di un suo libro intitolato come si pone il problema metafisico egli rinviava alla dimostrazione della trascendenza del principio in particolare facendo il nome di un altro filosofo proveniente dalla cattolica ma allora professore a Padova cioè Umberto Padovani Umberto Padovani si occupava più di filosofia morale che di filosofia teoretica però anche lui aveva ripreso questi tentativi di Bontadini e di Gentile e aveva sostanzialmente riproposto le cinque vie di Tommaso d'Aquino fondamentalmente la prima via come quella decisiva come faceva anche Sofia Vanni Rovighi sostanzialmente concentrando la sua attenzione nella prima via quella che parte appunto dal movimento dal divenire e Marino Gentile diceva dopo aver mostrato che l'esperienza è problematica dice dopo bisogna continuare il percorso seguendo l'itinerario indicato da Padovani e cioè mettere a confronto il divenire con il principio di non contraddizione arrivare alla dimostrazione che il divenire se fosse assolutizzato sarebbe contraddittorio ecco invece e qui se consentite comincio a parlare un momentino di me stesso a me a un certo momento è sembrato che il discorso di Marino Gentile non fosse solo una introduzione all'ulteriore discorso messo poi in atto da Padovani da Vanni Rovighi in qualche modo dallo stesso Bontedini ma costituisse già una presentazione una formulazione una interpretazione della metafisica classica perché nel momento in cui io riconosco che l'esperienza nella sua totalità includendo in essa come ho già detto ogni forma di conoscenza tutto ciò che si può di cui tutto ciò che si può vivere che si può come direbbero i tedeschi erleben vivere dando alla parola vivere il senso appunto transitivo di vivere qualche cosa di vivere un erlebnis un'esperienza vissuta e quindi anche e quindi anche l'esistenza quotidiana l'aspetto l'aspetto esistenziale con tutti i problemi che incontriamo nella vita pratica quando l'esperienza viene presa in questo senso così globale così totale e riconoscerne la problematicità cioè l'incapacità di spiegarsi da sé cioè l'insufficienza e significa ammettere la necessità di un principio di una soluzione che trascende l'esperienza che va oltre l'esperienza e dunque non possiede quei caratteri che rendono problematica l'esperienza il divenire la precarietà l'insufficienza la novità se volete anche i limiti la finitezza il male tutto ciò di cui abbiamo esperienza e che ci rende perennemente insoddisfatti perennemente scontenti e tutto questo se richiede un principio trascendente questo principio non può avere queste queste limitazioni queste imperfezioni e dunque deve essere appunto un principio assoluto un principio che non ha bisogno di altro per dirla in termini aristotelici una causa prima che non dipende da altre cause poi lo stesso Marino Gentile diceva che insomma per essere poi capace di spiegare l'esperienza deve essere un principio attivo e quindi non può essere un universale come le idee di Platone ma deve essere un principio individuale e attivo ma di un'attività che in definitiva e qui Marino Gentile finiva appunto con Aristotele deve essere un'attività di intelligenza cioè deve essere un principio un principio intelligente voi capite che fare questo discorso vuol dire avere già l'intera metafisica classica perché più di così mi sembra impossibile pretendere e quindi in questa formulazione della problematicità dell'esperienza già era contenuta l'intera metafisica classica sia pure essenzializzata e storicizzata ma naturalmente quello che in questo modo rimane è molto poco rimane poco anche nel discorso di Bontadini il quale diceva che la metafisica è un discorso breve perché si liquida in tre battute rimane molto poco cioè rimane quella che io qualche volta ho avuto l'infelice idea di chiamare una metafisica debole ma intendevo debole in senso epistemologico non debole nel senso del pensiero debole per cui vero falso giusto ingiusto buono e cattivo sono categorie troppo forti troppo violente che bisogna evitare no intendevo debole nel senso epistemologico una teoria dal punto di vista epistemologico è debole quando è povera di informazioni quando ci dice pochissimo il che peraltro la rende molto difficile da confutare perché mentre una teoria forte che pretende di dire tutto può essere confutata anche da un solo controesempio una teoria epistemologicamente debole che si accontenta di poco che fornisce poche informazioni è più difficile da confutare perché non basta portare un controesempio o anche un altro bisogna riuscire a dimostrare per confutare la tesi che l'esperienza è problematica bisognerebbe riuscire a dimostrare che l'esperienza non è problematica cioè presa nel suo complesso nel suo insieme si spiega perfettamente da sé contiene già in sé la propria soluzione è essa stessa l'assoluto la cosa naturalmente è stata fatta più volte in filosofia non c'è nulla che non sia stato fatto da qualche da qualche filosofo però è stato fatto e le posizioni appunto di tipo panteistico di tipo immanentistico di tipo materialistico che hanno assolutizzato il mondo dell'esperienza a loro volta sono state oggetto di critiche di obiezioni e di confutazioni e in questo senso il discorso il discorso rimane aperto quindi a me non dispiace anche presentare come dire una metafisica povera una metafisica epistemologicamente debole una metafisica possiamo chiamarla anche umile che si accontenta che si accontenta di poco perché questa è molto più difficile da confutare questa resiste molto meglio agli attacchi alle obiezioni del pensiero contemporaneo anche se deve rimanere aperta alla discussione deve essere disposta a prendere in considerazione continuamente nuove obiezioni nuovi tentativi di confutazione e quindi non può mai considerarsi definitivamente acquisita definitivamente dimostrata deve cimentarsi continuamente nella discussione critica con tutte le obiezioni che le possono essere rivolte ma questo mi pare del tutto naturale questo è non è altro che una espressione della storicità della storicità del filosofare ecco a me pare che una metafisica di questo tipo possa essere oggi una interpretazione non solo possibile della metafisica classica come ho scritto nel titolo ma anche una formulazione un'interpretazione che presenta molti vantaggi e che a me personalmente devo dire riesce molto persuasiva perché trova conferma nella mia esperienza quotidiana di ricerca di dibattito di discussione e anche di vita dove sono continuamente messo di fronte alla constatazione dei limiti della finitezza della precarietà dell'insufficienza di tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare dell'insufficienza di noi stessi di me stesso in primo luogo e tutto questo non mi pare che confermi continuamente il carattere problematico dell'esperienza naturalmente io non pretendo che tutta la filosofia si debba ridurre a questo la filosofia è grande e nella filosofia ci sono tante cose c'è per cominciare l'ontologia di cui adesso che adesso è tornata di moda grazie alla filosofia analitica grazie al nuovo realismo grazie a tante correnti contemporanee e sono cose anche molto serie molto interessanti stabilire per esempio quali cose esistono a quali categorie sono riconducibili che tipo di esistenza possiedono che relazioni intrattengono fra di loro non solo gli oggetti ma anche le persone anche entità come i numeri come i teoremi della geometria sono tutte cose molto interessanti così come è interessante il vasto campo della logica che è poi di grande aiuto per la filosofia ma poi ci sono tante altre l'antropologia la filosofia della storia la filosofia della religione la filosofia del linguaggio tutto quello che ci volete mettere dentro io non pretendo che la metafisica debba rendere inutili o meno interessanti o da lasciare fuori tutte queste altre cose ma nel momento in cui si fa metafisica a me pare che ancora l'insegnamento dei grandi maestri antichi classici appunto e anche di maestri più recenti come Bontadini e Marino Gentile sia ancora attuale se riproposto se riproposto in questa forma e questa forma vi devo dire mi sembra anche la più come dire la più adatta a stabilire un rapporto non conflittuale ma al tempo stesso di indipendenza reciproca tra la filosofia e la fede religiosa perché una filosofia una metafisica di questo genere non obbliga a credere non porta assolutamente alla necessità della fede il fatto che ci sia un principio trascendente un principio ammettiamo anche che sia individuale che sia addirittura personale che costituisce la spiegazione ultima del mondo dell'esperienza non implica necessariamente che io mi debba rapportare con lui in qualche modo che possa chiamarsi fede e quindi la fede non ne discende non ne deriva non è implicata da questo discorso non è imposta da questo discorso ma al tempo stesso anche non è impedita e se uno vuole credere lo può fare proprio perché la filosofia non glielo impedisce cioè la filosofia gli lascia lo spazio gli lascia la libertà di credere di prendere questa decisione che è una decisione ripeto libera e non imposta dalla filosofia per cui uno crede altre filosofie non metafisiche che non riconoscano la trascendenza del principio e quindi la problematicità dell'esperienza impediscono di credere perché o escludono che vi sia qualcuno a cui credere o ritengono che non sia possibile nessun tipo di rapporto perché questa entità viene considerata come impersonale come immanente come qualche cosa con cui è impossibile stabilire un rapporto di tipo religioso per questo ecco a me sembra che questo tipo di discorso non sia necessariamente una metafisica cristiana come non era una metafisica musulmana quella di Aristotele è una metafisica umana una metafisica che può consentire anche quell'atto di libertà che è appunto la fede religiosa uscola la fede la fede che è la fede